Mettere su casa con Chiale non è mai stato così semplice. Chiale da decenni è il punto di riferimento per la lista nozze e per le coppie che decidono di vivere insieme. Qui hanno a disposizione un vasto assortimento delle migliori marche di casalinghi, piccoli e grandi elettrodomestici e le ultime novità di tutti i prodotti tecnologici. Vieni a trovarci nei punti vendita di Pinerolo a Saluzzo e da Chiale a Reda. Aveva già subito una rapina a marzo Giovanni Bruno, il barista 38enne, che la scorsa notte è stato ucciso a Pinerolo da due rapinatori, che volevano portare via l'incasso di 4.000 euro. Era quasi mezzanotte quando li ha visti entrare con il viso coperto con dei passamontagna. I rapinatori hanno fermato l'auto davanti al suo bar del Corso, in Corso Torino, ed è stato a quel punto che il barista ha deciso di affrontarli a mani nude. Lui, di corporatura robusta, ne ha bloccato uno. È nata una colluttazione e il compice ha sparato per cinque volte. Tre proiettili, calibro 22, sono andati a segno. Il barista è morto all'istante. I rapinatori sono scappati senza prendere l'incasso. Al vaglio dei carabinieri coordinati dal capitano Alberto Tulli, i video delle telecamere installate nel bar.